Io credo ci sia molto da fare per costruire un mondo migliore in tutti i sensi, dalla sfera affettiva a quella professionale, dall'accoglienza e dalla solidarietà versi gli altri al rispetto per l'ambiente. Ora più che mai dobbiamo essere consapevoli che un virus in meno di dieci giorni può infettare l'intera umanità, che la terra è fragile, che le conseguenze per la nostra vita e per la nostra salute possono essere drammatiche e che il nostro modo di vivere e le nostre abitudini possono essere totalmente stravolte. Abbiamo una grande possibilità e una grande responsabilità. Possiamo partire con una nuova e maggiore sensibilità per costruire un mondo migliore di quello che abbiamo vissuto sinora, con vasi umane molto più solide. Questa è la vera sfida, è una sfida nuova perché tutti noi possiamo concretamente fare la nostra parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.